Il principe Arci ha festeggiato il suo quarto compleanno lo stesso giorno, in cui il mondo si è sintonizzato per assistere all'incoronazione di Re Carlo. Il duca e la duchessa del Sussex, hanno rivelato cosa ha ricevuto il principe Arci per il suo quarto compleanno il 6 maggio. Il giovane Reale ha celebrato il giorno speciale con sua madre Meghan Markle e sua sorella, la principessa Lilibet, nella loro casa in California. Purtroppo il principe Ferri non è stato in grado di essere presente quando è partito per il Regno Unito, per assistere all'incoronazione di suo padre. Il suo viaggio è stato però solo veloce, con il duca che è tornato prontamente a casa per assicurarsi di non perdere tutte le celebrazioni di suo figlio. E ora è stato rivelato uno dei regali di compleanno del giovane Reale. Il principe Arci ha ricevuto in regalo una bicicletta da Mad Dogs and Englishman Bike Shop, che ha sede a Montecito. La proprietaria del negozio Jennifer Blevins ha detto che il suo partner britannico Martin si è svegliato il 6 maggio spontaneamente volendo fare un regalo al giovane Reale. Ha deciso di consegnare a mano una bicicletta, completa di palloncini di compleanno legati al manubrio, un biglietto e fiori per mamma Meghan, per assicurarsi che Arci ricevesse il regalo nel suo giorno speciale. Blevins ha detto a persone, è andato e ha preso una delle nostre piccole bici specializzate per bambini sono davvero belle bici e ha detto, questa è perfetta, ha le ruote da allenamento. E così è andato a prendere dei palloncini per il compleanno, ha preso dei fiori per Meghan e un biglietto d'auguri, e ha detto, ok, vado in bicicletta e lo porto a casa loro.